Entra nel vivo il Carnevale Veronese, una macchina organizzativa che impegna da mesi gli appassionati e le associazioni in vista della spilata che si terrà domani venerdì primo marzo, venerdì gnocolar da Corso Porta Nuova Piazza San Zeno. Saranno un centinaio i carri, i corpi bandistici, personaggi del Carnevale Veronese, quello che viene definito il più antico d'Europa se si pensa che è giunto alla 489 edizione. Le novità sono sempre quelle, nel senso che ogni anno noi cerchiamo di mettere qualcosa di nuovo e ovviamente quest'anno ci sarà la veronesità e tutte le maschere italiane perché c'è la Gianduia che viene da Torino, ci sarà il Re Biscottino che viene da Novara. Abbiamo tutte le maschere italiane, dunque tutte le maschere italiane e partiremo con il Carnevale Veronese, con tutta Verona. Dele Pace sarà in diretta domani a partire dalle 16.15 ad accogliere la spilata Piazza San Zeno per regalare un momento di festa e di serenità a tutti i veronesi e gli appassionati. Ecco allora l'invito a partecipare di Papà del Gnocco. Cominciamo a sentire l'emozione della spilata e ci prepariamo in modo che sia un'altra bella giornata di Carnevale. Mi auguro di vedere le strade piene di persone gioiose che si divertono a seguire i carri. Che invito facciamo ai veronesi per partecipare? Essere per strada e divertirsi tutto il Carnevale.